Il Comune di Pistoia ha emanato una nuova ordinanza dopo quella dello scorso 20 gennaio per tutelare la qualità dell'aria e contrastare l'attuale valore di polveri sottili, le PM10. Il provvedimento spiega che il Comune resterà in vigore fino al 30 gennaio allo scopo di ridurre la concentrazione media giornaliera di polveri sottili ed è stato adottato in conformità alle direttive della Regione Toscana. Nello specifico l'ordinanza vieta l'utilizzo di legna nei caminetti aperti e nelle stufe tradizionali qualora nelle abitazioni siano presenti sistemi alternativi di riscaldamento con la deroga per le aree non metanizzate. Inoltre la disposizione comunale invita a contenere i consumi energetici evitando inutili sprechi nella gestione degli impianti di riscaldamento attraverso una corretta regolazione degli orari di accensione e il controllo della temperatura massima. Negli spostamenti ridurre l'uso delle auto ricorrendo il più possibile a mezzi di trasporto alternativi e non inquinanti. Grazie. Grazie.